La mafia in Abruzzo c'è, il sindacato dei Carabinieri Unarma alza i toni. Gli ultimi fatti di cronaca fanno riflettere, sono quelli che hanno riguardato l'alto sangro con il sequestro di beni mobili, immobili e societari acquisiti mediante riciclaggio di denaro sporco provenienti dalle attività dei casalesi, ma non solo. Nell'ultimo biennio 2020-21 le inchieste in Abruzzo connesse alla cosiddetta mafia dei Pascoli hanno portato a 24 misure interdittive adottate dalle locali prefetture nei confronti delle aziende le cui attività, direttamente o indirettamente, sono state ritenute collegate alla criminalità organizzata. I numeri parlano chiaro, c'è stata una tendenza in aumento rispetto agli anni precedenti. Numeri che dimostrano quanto purtroppo le associazioni malavitose siano penetrate e ramificate nel tessuto sociale ed economica abruzzese. L'Abruzzo insomma non può considerarsi più un'isola felice. Se si pensa agli ultimi avvenimenti accaduti sull'alto sangro, dove sono stati sequestrati alla mafia che ha beni sia mobili che immobili e societari, si vede in quanto la mafia si è addentrata nel territorio e ha preso non potere, però si è radicata molto nella società. Anche la mafia dei Pascoli è un altro fenomeno perché ci sono dei dati reali interdittive delle prefetture. Insomma anche questo è un problema anche nel territorio aquilano. In aumento negli anni precedenti di circa il 71%, questo fa pensare molto sul territorio di quello che sta accadendo. L'Aquila è appetibile perché è un po' una zona di scambio vicina a Roma, quindi fa gola, fanno gola anche i fondi, ha fatto gola anche la ricostruzione. Sicuramente questo è un incentivo alle cosche mafiose ad indentrarsi sempre di più sul territorio aquilano. L'appello sostanzialmente è uno, è quello a non sottovalutare questi fenomeni, ha spiegato il segretario generale provinciale Unarma Massimiliano Petrilli e il sindacato spinge anche affinché l'Abruzzo non venga spogliato di presidi importanti come i tribunali minori. Noi chiediamo ad oggi di non chiudere i tribunali minori perché sono i primi presidi sul territorio, anzi chiediamo di rafforzare con personale sia civile che militare.